Niki Vendola, ospite dei dibattiti a DN Kronos, si presenta così, poete a chiappanuvole, capace di portare a casa in Puglia risultati di governo concreti. Alle primarie del centro-sinistra si presenta con lo slogan Oppure Vendola. Ma un discorso non reticente, non ambiguo a proposito di liberismo e di agende segnate dal rigore a senso unico. Il centro-sinistra immaginato da Vendola avrebbe idee chiare sulle cose da fare, dal campo dei diritti a una patrimoniale di tipo finanziario e anche sulle alleanze. La tarantella alleanzistica appartiene a una idea della politica in cui la tattica è il cannibale che si mangia la strategia. Allora vorrei davvero capire in che maniera posso essere alleato di Casini alla luce delle idee che lui ha sui diritti sociali e sui diritti civili. Con Vendola Premier, Bersani sarebbe nel governo, Renzi no. Ho visto che Renzi vuole in quel caso completare l'esperienza di sindaco di Firenze. È tanto giovane, è bene il primo mandato come sindaco. Bersani io lo ricordo come uno straordinario ministro.